Troviamo a Via Fosso dell'Osa, strada pericolosa, già qui una lapide, quindi già una strada segnata purtroppo da vittime della strada questa è la curva che anticipa il luogo dell'incidente e andiamo a vedere, certo qui ci sono anche delle persone ci sono anche altri giornalisti ma siamo comunque sempre in imbarazzo perché è un momento comunque delicato anche per i parenti non è, ecco lì c'è il gruppetto, questa è la strada di Via Fosso dell'Osa alle periferie di Roma e ci sono già dei giornalisti, sono venuti, è stata molto pericolosa, quattro morti stamattina, stanotte alle due e mezza vedete il fosso qui sotto dove evidentemente si è ribaltata la macchina, ha perso il controllo credo probabilmente ecco, e qui vediamo le persone, qui sotto alla mia sinistra c'è il fosso, infatti si chiama Via Fosso dell'Osa qui vedete già dei segni, qui evidentemente è successo qualcosa nell'incidente, andiamo a vedere questo anche per far capire ai giovani di andare piano, di non correre, di guidare in condizioni buone cerchiamo di non riprendere le persone, ecco lì c'è una frenata, ecco vedete qui già i segni dell'incidente vedete, i segni dell'incidente, la strusciata ed è finita sotto questo fosso qui vedete, cerchiamo di non riprendere le persone dovrò? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.